Un 15enne è stato trovato morto a Senigallia, si è sparato con la pistola del padre. Droni e somozzatori setacciano il furlo per cercare un 19enne scomparso. Prevenzione da dengue, questa notte a Pesaro si disinfesta l'intera zona mare. Scadenze etari è stato assegnato il fondo anticrisi a più di mille famiglie pesaresi. A Pesaro, dopo un lungo stallo burocratico, riapre il ristorante del club nautico. Buon inizio settimana a tutti i telespettatori di Rossini TV e benvenuti al nostro telegiornale Rossini News. Oggi è lunedì 14 ottobre e apriamo questa edizione con la cronaca e con una notizia drammatica che arriva dalla città di Senigallia dove in mattinata è stato trovato senza vita il corpo di un 15enne per il quale erano state avviate le ricerche da ieri. Il minore è stato trovato in un casolare nella frazione di Montignano. Il ragazzo si sarebbe sparato con la pistola sottratta al padre, agente di polizia municipale. Lo stesso padre aveva dato l'allarme nella giornata di ieri e le forze dell'ordine per questione di sicurezza avevano avvertito le scuole di non far stazionare gli studenti nelle aree esterne all'istituto. Si indaga ora sulle motivazioni di un insano gesto sul quale aleggia però l'ombra di pregressi episodi di bullismo. Sono invece lunghissime ore di apprensione quelle che si stanno vivendo nell'area limitrofa alla diga del furlo dove da ieri sera si sta cercando senza sosta un 19enne di acqualagna. L'auto del ragazzo è stata trovata in prossimità della stessa diga mentre il giovane risulta irreperibile al cellulare. Le ricerche sono partite intorno alle 19 di ieri dopo la denuncia di scomparsa dei genitori. Vigili del fuoco e carabinieri hanno scandagliato un'ampia porzione via terra e da questa mattina sono entrate in funzione anche le unità cinofile. Ricerche anche in acqua con le squadre di sommozzatori che sia ieri che oggi hanno proseguito le ricerche. Si stanno utilizzando anche droni nell'area valle dello sbarramento del corso d'acqua temendo che il ragazzo possa aver compiuto un gesto estremo. Ed ora torniamo a parlare del femminicidio di Anna Cristina Duarte Correira, avvenuto come ben ricordate il 7 ottobre scorso a Saltara di Coglia al Metauro. Dopo più di un mese è stato fissato finalmente il funerale della 38enne di origine brasiliana uccisa il 7 ottobre scorso dal marito Ezio di Levrano davanti agli occhi dei suoi tre figli. Il funerale si terrà domani 15 ottobre alle 11.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Croce di Calcinelli. Una situazione trascinata fin qui a causa degli approfondimenti di indagine e dalla lentezza burocratica nelle dinamiche per coprire i costi delle sequie. Ed ora cambiamo argomento perché il Comune di Pesaro ha annunciato oggi il terzo intervento di disinfestazione da zanzara tigre per prevenzione ai contagi da dengue. Sarà effettuato questa notte e riguarderà l'intera zona mare. I casi di dengue nelle Marche hanno raggiunto quota 180 episodi di contagio fra gli oltre 130 casi accertati e la cinquantina etichettata come probabili. Una cifra quasi interamente circoscritta a Fano, mentre a Pesaro, sebbene si si affermi solo i due episodi di contagio diagnosticati fra Viale Napoli e Viale Rovereto, si prevede ora un terzo intervento di disinfestazione da zanzara tigre. Sarà il più esteso visto che riguarderà l'intera zona mare della città. Al via dunque questa notte alle 3 di mattina del 15 ottobre, un'azione preventiva di disinfestazione che riguarderà sia l'area di Ponente che quella di Levante, compresa nel perimetro fra il mare e la statale adriatica. Di fatto si interverrà con trattamento ad ulticida su tutti i tre viali principali del lungomare, Viale Trieste, Viale Trento e Viale Battisti e su tutte le loro vie trasversali. Un intervento preventivo al cospetto di temperature d'ottobre ancora estremamente miti che agevolano la proliferazione di altre zanzare. Tra due giorni a Pesaro scade il pagamento della terza rata della Tari, una scadenza impellente che ha portato oggi il centrodestra pesarese ad accusare il Comune di un grave ritardo della comunicazione alle famiglie che hanno beneficiato del bonus, Comune che ha risposto con i dati finali del bando stesso. A due giorni dal 16 ottobre, data di pagamento della terza rata della Tari, i consiglieri comunali di centrodestra hanno sollecitato il Comune a comunicare alle famiglie pesaresi quali di queste avessero beneficiato del fondo anticrisi che le sentasse di metà del pagamento della tassa comunale sui rifiuti. Un ritardo grave, secondo i consiglieri, vista l'impellenza della terza rata. Il sollecito, sotto forma di comunicato stampa, ha portato il Comune nella giornata odierna a rispondere tramite l'assessore ai servizi sociali Luca Pandolfi in base all'esito del bando per il quale il Comune ha stanziato 300.000 euro di fondo anticrisi. Secondo Pandolfi sono state 1.367 le domande pervenute agli uffici comunali e di queste ne sono state accolte 1.800. 15 le domande doppie, 73 quelle rigettate per mancanza dei requisiti. Secondo lo stesso assessore, le famiglie che non sono rientrate nell'avviso pubblico e che non riceveranno i contributi dovendo pagare la rata di ottobre sono già state allertate dagli uffici. Ci sono poi 270 domande per le quali si sta verificando l'esistenza delle condizioni di piena solvenza delle bollette precedenti e rispetto dei requisiti tra cui quello del valore Isee. Dopo mesi di chiusura derivata da un intricato caso burocratico, ha riaperto oggi il ristorante del Club Nautico di Pesaro con una nuova gestione. Vediamo. Il ristorante del Club Nautico di Pesaro riapre ufficialmente. Lo storico locale del circolo portuale torna a splendere tra tavoli con vista mare e piatti della tradizione marchigiana, con protagonista la cucina di pesce ma anche spunti di carne e possibilità di pasta senza glutine. Riprende vita sotto la gestione di Gianluca Giovanelli, amministratore delegato e Luigi Longobardi come chef. Il tutto in collaborazione con l'Osteria della Peppa e Villa Marina, fondati e diretti da Mirko e Martina Carloni. Significa innanzitutto una grande sfida e opportunità per noi, per me e per i miei soci Martina e Mirko. Io collaboro con loro ormai da tanti anni e abbiamo avuto l'opportunità di prendere in gestione il ristorante del Club Nautico, quindi è una bella sfida. Noi entreremo nel mondo di Pesaro con la massima umiltà ma consapevolezza dei nostri mezzi e cercare di accontentare tutte le richieste dei soci e dei nostri clienti cercando di partire dalla tradizione, quindi il nostro obiettivo sarà quello di fare mangiare e assaggiare tutti i piatti tipici della tradizione marchigiana, pesarese, dai piatti di pesce e in più abbiamo aggiunto anche qualche alternativa di piatto di carne e anche del senza glutine, quindi con la pasta fatta in casa senza glutine. La pasta, a parte quella senza glutine, la pasta normale invece sarà quella della pasta della Peppa, che è tutta pasta a mano tirata a mattarello. Il ristorante è per i soci e quindi possono venire a mangiare tutti quanti che siano soci del Club oppure i loro amici, ospiti. La quota della tessera è valida per tutto l'anno e una volta fatta la tessera si ha appunto l'accesso al ristorante come al bar di sotto per la colazione e poi per gli aperitivi, poi abbiamo in mente diverse anche serate da promuovere a tema. Già questo venerdì, il 18, faremo diciamo l'inaugurazione ufficiale insomma, dove faremo una cena a menù fisso con un prezzo dedicato appunto ai soci, dove proporremo degli antipasti pesce, un bis di primi, dei secondi, dei dolci, tutto quanto compreso anche di vino in collaborazione con l'azienda di Sante e verrà direttamente appunto Tommaso che è il proprietario e faranno una degustazione dei loro vini in abbinamento con il nostro menù che proponiamo. Da questa mattina ha invece chiuso il Palazzo delle Poste a Pesaro in Piazza del Popolo per un lavoro di riqualificazione dell'edificio finanziato da poste italiane, poste centrali che rimarranno chiuse fino al 21 di novembre, come comunicato dall'avviso affisso all'ingresso laterale di via Branca. In questo periodo di chiusura i principali servizi della sede centrale saranno deviati nella filiale di via Mastro Giorgio. Si sbloccano a Pesaro i lavori per completare la ciclabile fra Vismara e Torraccia con il tunnel che andrà costruito sotto la ferrovia. Dopo mesi di attesa RFI ha comunicato oggi al Comune il via libera a procedere con l'intervento per i quali sono stati stanziati 900 mila euro. Rete Ferrovie Italiane dovrà ora comunicare quale finestra di tempo di due settimane verrà individuata per intervenire sotto i binari e creare così un tunnel largo 3 metri e mezzo. Questo appena passato fine settimana Pesaro ha ricordato padre Gianfranco Damiani e la sua opera. Un'eredità narrata per l'occasione proprio dalle testimonianze degli ex allievi del suo collegio. Si è tenuto questo weekend l'evento dedicato alla memoria di padre Damiani a 78 anni dalla fondazione di quel collegio pesarese diventato casa per tantissimi esuli di Istria, Fiume e Dalmazia. Un ansogno perché ha organizzato l'evento, un momento di ricordo e di gioia per i tanti figli di padre Damiani giunti allo sperimentale di Pesaro per l'occasione. Stiamo celebrando non tanto e semplicemente la memoria di un uomo ma stiamo così contemplando l'opera di Dio e vedere questa mattina tutti gli ex allunni a casa padre Damiani che si andavano a ricercare nelle fotografie per vedere io ero lì ero là, è bellissimo, abbiamo vissuto momenti di forte intensità emotiva, il cuore veramente palpitava e oggi pomeriggio vorremmo dare questa emozione a Pesaro, alla nostra città perché poi alla fine quello che conta è che ognuno di noi che sta a Pesaro si renda conto della ricchezza che ha questa città in persone che sono capaci di generare bene coinvolgendo tante altre persone. Padre Damiani posso dire il stato fondamentale nella mia vita, da esule istriano ho passato delle peripizie notevoli, non le sto a elencare, comunque la situazione era quella. Sono stato ospitato presso padre Damiani, presso la sua opera dal 1955 al 1961 e di Pesaro sono ricordi da ragazzino perché c'era disciplina in collegio ma dall'altra parte eravamo i mila e quindi bisogna pensare alla responsabilità di padre Damiani perché tante volte in famiglia basta avere uno, due, tre figli ci sono già problemi, avere la responsabilità di mila potete e quindi qualcuno questa disciplina è pesata, a me tutto sommato no, sono andato militare, gli altri si lamentavano della disciplina, a me sembrava di essere in colonia. Io debo molto a padre Damiani, debo la mia vocazione perché ho visto un prete, un uomo e un prete, come uomo mi ha subito affascinato, come prete mi ha attrettanto affascinato perché ho visto due cose, due cose che poi mi sono servite moltissimo per la mia vita sacerdotale, prima di tutto è un atteggiamento di fede, quello che maggiormente spingeva, urgeva, faceva urgenza dentro Don Pietro era una grande fede, è una cosa spaventosa, io lo vedevo quando gli servivo la messa, quando poi anche da ragazzo, da grande, da semierista sono stato con lui anche d'estate, venivo dopo Fano, venivo qui a aiutare le colonie, vedevo come pregava e come diceva la messa, con un atteggiamento di fede che rarissimamente io l'ho visto in altri e poi anche le sue lettere che mi spediva poi dopo, più tardi, sempre la parola fede, 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 questa è la prima cosa che mi ha affascinato e poi chiaramente l'amore e la carità la si è vista, non è che c'è bisogno di parlare dell'amore dei pari Damiani verso gli altri perché si è visto nelle opere. Arriva un altro appuntamento di carattere nazionale a Pesaro, la città è stata infatti scelta come sede del convegno italiano dei commercialisti che si terrà fra domani e mercoledì. Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, si prepara ad ospitare un altro evento nazionale, si tratta del convegno commercialisti NEX, generazione di professionisti verso nuovi scenari. L'ordine nazionale ha infatti scelto la città pesarese come comune ospitante per un evento che guarda al futuro della professione. È un evento molto importante che si abbina al fatto che Pesaro quest'anno è capitale italiana della cultura 2024, questo è un evento culturale, è un convegno, è una formazione sul futuro della professione, sul futuro dell'economia, si parlerà di digitalizzazione, di sostenibilità, di etica del lavoro e dell'impegno e quindi tutti elementi che sono importanti per lo sviluppo sia dell'economia ma anche e soprattutto della nostra professione e ci sarà un dialogo con i giovani, cercheremo di ascoltare le loro richieste, le loro problematiche per poterli, diciamo così, delineare le linee guida della professione futura assieme ai giovani. Il convegno non sarà composto solo da panel ma anche da momenti di divertimento e confronto che vedranno la partecipazione di volti noti della cinema, dello spettacolo, dello sport e dell'imprenditoria. La sera avremo una cena di gala che faremo alla Vitri Frigo Arena, qui sempre di Pesaro perché saremo oltre mille i partecipanti e per cui avremo necessità di uno spazio, diciamo così, adeguato e ci sarà il comico albanese che parlerà sulle diverse questioni dell'economia con un taglio comico e quindi faremo delle riflessioni ridendo sul futuro sia del nostro paese che della professione. Nel giorno invece seguente avremo tutti i personaggi di successo che nei vari aspetti dell'economia che vanno dallo sport, infatti sarà presente Bergomi, Caressa come conduttore televisivo ma ci saranno anche degli imprenditori di primo piano come i Guzzini e tutti insieme spiegheranno qual è la formula, quali sono gli elementi comuni che portano al successo nella vita professionale. Lo sguardo del convegno è rivolto al futuro e all'accambiamento dettato dal progresso. Obiettivo quindi della Due Giorni sarà anche quello di scoprire come si sta evolvendo la professione dei commercialisti. La nostra professione si è molto evoluta perché partendo da quello che era un po' il caposaldo che era la consulenza fiscale oggi si sta modificando tanto quindi lo scopo che è quello anche promosso dalla fondazione è quello di spingere i giovani verso nuove attività che sono offerte ad esempio con l'introduzione dell'intelligenza artificiale verso quali i giovani chiaramente sono anche più portati di noi professionisti un po' più anziani la sostenibilità, la sicurezza che sono argomenti che non riguardano solo le aziende ma riguardano la società più in generale e su questo vorremmo tentare di dare il nostro contributo anche all'interno di queste due giornate del convegno. Nel fine settimana appena trascorso Pesaro è stata anche sede del raduno nazionale dei camperisti promosso dall'associazione Io Viaggio in camper. 155 camper hanno infatti stazionato nell'area del San Decenzio da venerdì a ieri in una tre giorni di iniziative all'aria aperta, momenti di approfondimento alla vitre Friguarena e tante visite guidate nei luoghi della capitale della cultura. E si sono tenute ieri le giornate fai d'autunno che come di consueto hanno portato alla scoperta di luoghi della cultura abitualmente chiusi alle visite al pubblico. Tantissimi visitatori che per l'occasione sono andati alla scoperta della caserma militare del Monte che ospita il ventottesimo reggimento Pavia, reparto d'eccellenza internazionale per quanto riguarda le comunicazioni operative. I militari e il comandante Antonio Di Leonardo hanno fatto da guida assieme ai volontari del FAI portando a conoscere la Sala della Regina, il Museo dei Ricordi, il Sacrario, il Teatro, la Tipografia e la Sala di Radio Esercito. Ed ora nel prossimo servizio andiamo a vedere il primo weekend della 61esima edizione della mostra del Tartuffo Bianco di Sant'Angelo Invado. E' partita la 61esima mostra nazionale del Tartuffo Bianco con centinaia di visitatori che hanno follato le vie del centro di Sant'Angelo Invado e la piazza dedicata al Re Tartuffo. Un primo weekend in cui sono stati anche segnati i primi due premi Tartuffo d'oro che sono andati a Tommaso Mazzanti dell'Antico Vinaio e al bartender campione del mondo Bruno Van Zan. A dare spettacolo a ingolosire la piazza ci ha pensato invece la frittata al Tartuffo da Guinness dei Primati con oltre 700 uova e 6 kg di Tartuffo nero versati in una maxipentola per una frittatona che ha anticipato le specialità gastronomiche di cantine e ristoranti. E' un evento importante per tutto il territorio. Siamo la prima mostra nazionale del Tartuffo Bianco pregiato per longevità delle marche e la seconda in Italia. Quindi è un bellissimo traguardo. Noi siamo una mostra del Tartuffo quindi essendo mostra vuol dire che noi ci siamo voluti declinare oltre a omaggiare il prodotto del Tartuffo ma anche mostrare un territorio mostrare quelle che sono le nostre caratteristiche, le nostre peculiarità. Quindi qui a Sant'Angelo venite perché potrete trovare tanta gastronomia, tanto Tartuffo. Fortunatamente finalmente è un anno che promette bene dal punto di vista produttivo ma potete venire anche a vedere le bellissime chiese che abbiamo, le tante mostre che vengono allestite solo per questo periodo e anche non dimentichiamo c'è la Domus del Mito che è un ristoramento archeologico tra i più importanti degli ultimi 50 anni. La festa del Tartuffo incomincia oggi ma poi andrà avanti fino al 27 d'ottobre. Il 3 di novembre abbiamo la fiera solo merce logica quindi la fiera, adesso una San Nicola un po' più piccolino ovviamente, il paese più piccolo ma abbiamo tante altre cose da fare. Forse settimana il motraduno, poi il 26-27 la giornata dedicata ai marchigiani e poi vediamoci a Natale perché a Natale rassegne d'organo, mercatini natalizi e quant'altro, venite a Sant'Angelo perché comunque c'è sempre qualcosa da fare e da vedere. E come tutti lunedì in chiusura di telegiornale andiamo a fare un check sui risultati delle partite delle nostre squadre locali, vediamo. La più controversa delle settimane per l'AVL iniziata con la vittoria su Avellino e continuata con le spiazzanti dimissioni di coach sacripanti, si è chiusa per il basket pesarese con la sconfitta del sabato sera sul parquet di Rieti. In terra laziale la squadra, guidata per l'occasione da Giacomo Baioni, cade 86-80 in una serata in cui salgono i giri degli americani ma non bastano i 30 punti di Ahmad a evitare una sconfitta in cui l'AVL si mostra fragile difensivamente e discontinua nelle varie fasi della partita. Una partita in Curieti chiude avanti il primo quarto 24-20 con un incredibile canestro da metacampo sulla sirena per poi mantenersi sempre avanti, capace di rispedire al mittente i tentativi di un'AVL che resta sempre a contatto degli avversari ma non abbastanza per risollevare le sorti del match. Nel calcio terzo pareggio consecutivo per la Vispesaro che fa 1-1 al Benelli contro il Pineto caricato dal cambio d'allenatore avvenuto in settimana. Succede tutto nel primo tempo con gli abruzzesi avanti dopo 21 minuti con il calcio di punizione di Bruzzaniti e la Vische la riacciuffa 12 minuti dopo col primo gol pesarese di Orejana che sfodera un'ottima conclusione su altrettanto pregevole assist di Paganini, la miglior giocata di una Vische che fa globalmente un passo indietro di prestazione. Nella pallavolo seconda partita stagionale per la Megabox, seconda trasferta e seconda gara trascinata al tie-break. Con la differenza che dopo le 2 ore e 43 minuti di Firenze, questa volta le 2 ore e 46 minuti di Perugia, premiano Vallefoglia che spugna il Palabarton 3-2 e si prende due preziosi punti in classifica. Dopo un avvio tutto in discesa, le Tigri, privi di Simon Lee tenute a riposo per motivi precauzionali, si sono dovute guadagnare punto su punto la vittoria dovendo far fronte a momenti in cui l'avversario con Nemeth e Ungureanu sono parsi inarrestabili. Decisivo però il cinismo dimostrato dalla squadra di pistola nei finali del terzo e del quinto set strappati di un soffio annullando palle set e match point. I parziali recitano 12-25, 25-19, 30-32, 25-15, 17-19. Nel rugby è partito il campionato di Serie A con la Fiorini Pesero che al debutto al Tecno World Rugby Park di Muraglia cade 23-24 contro Casale premiata da un decisivo calcio di punizione nelle finali di gara. Pesero deve accontentarsi del solo punto di bonus difensivo dopo un primo tempo condotto sempre avanti e partito con un 13-0 frutto delle mete di Mei e Venturini. Quest'ultimo schiaccerà una terza mete in un primo tempo chiuso sul 20-14. Sarà però l'ultima meta pesarese perché nel secondo tempo va in scena la rimonta di Casale che prima va in vantaggio con una molle, poi torna sotto su punizione fino al fallo pesarese che vale il controsorpasso e la vittoria dei piemontesi. E allora andiamo a vedere quella che sarà la programmazione su Rossini TV. Innanzitutto oggi il consueto appuntamento intorno alle 20 con la natura della cultura. Parleremo di Lunano, capitale al quadrato per 50-50, Pesero 20-24. E poi questa sera alle 21 avrete la possibilità, se non l'avete fatto ieri sera, di vedere la partita Real-Sebastiani Rieti contro la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. E poi domani vi aspetto con la lettura dei titoli dei quotidiani locali nella nostra rassegna stampa. E domani vi ricordiamo che vi trasmetteremo la partita Fiorini-Pesaro Rugby-Casale Rugby alle ore 21 e 40. E una comunicazione di servizio perché prima di salutarvi voglio ricordarvi che è partito il 77esimo Festival di Arte Drammatica GAD e allora tra poco vi mostreremo il trailer del primo degli otto spettacoli in concorso. Anche quest'anno Rossini TV assegnerà infatti un suo premio al miglior trailer prodotto dalle compagnie teatrali. Il trailer che potrete votare anche sulla pagina Facebook GAD Amici della Prosa. Il primo che vi proponiamo questa sera è quello relativo alla commedia stasera ovulo del gruppo attività teatrali Peppino Mancini. Spettacolo che andrà in scena al Teatro Rossini giovedì 17 ottobre alle ore 21. E allora mi raccomando votate questi trailer d'arte drammatica proprio sulla pagina Facebook GAD Amici della Prosa. Grazie e buona serata.